Fortunatamente si è risolto solo con una curabile intossicazione da fumo, oltre a tanto spavento, l'incidente ha corso in un'abitazione di via Manzoni e Barletta dove alle 14.30 di ieri, mentre molti erano ancora intenti a pranzare festeggiando la Domenica delle Palme, al secondo piano una forte esplosione ha distrutto e avvolto tra le fiamme l'intera abitazione che si affaccia su via Ungaretti. All'interno al momento del fatto, padre e figlio che sono stati immediatamente soccorsi da un'ambulanza del 118 e trasportati in ospedale al Monsignor Di Miccoli della città per le cure del caso. Sul posto anche due volanti della Polizia e Vigili del Fuoco impegnati diverse ore per sedare l'incendio che secondo quanto si è preso si sarebbe sviluppato a partire dalla cucina coinvolgendo il resto della casa e mandando in frantumi le finestre. Da una nota dinamata da Palazzo di Città intanto il sindaco Pasquale Cascella riferisce fondamentale è stato il subitanio intervento delle forze dell'ordine che ha di fatto scongiurato conseguenze agli abitanti della palazzina con il supporto dei tecnici del comune anch'essi giunti sul posto si sta ora procedendo ad accertare quanto accaduto e a garantire la messa in sicurezza del luogo.